In un prossimo video facciamo 4 esercizi da 30 secondi da ripetere due volte di vita. Il primo esercizio è skip basso, il secondo con la fronte posteriore al ginocchio, una volta a destra e la volta a sinistra. Il terzo esercizio è squat e il quarto esercizio è branca braccia a piede. Ora facciamo l'insieme sviluppo. In un prossimo video facciamo 4 esercizio. In un prossimo video facciamo 4 esercizio. In un prossimo video facciamo 4 esercizio. What's that about, you start slurring your words Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you Your fingertips are drifting away, and I f***ing love how it hurts Why do I, baby, why do I, love the way you are, we always leave me Why do I, baby, why do I, love the touch, but never love the feeling Why do I, baby, why do I, love the way you are, we always leave me Why do I, baby, why do I, love the touch, but never love the feeling Why do I, baby, why do I, why do I, baby, why do I, why do I, baby, why do I Love the times, but never love the feeling Love the times, 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 never love the feeling Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.